ciao a tutti ragazzi oggi siamo in questo nuovissimo video di roblox insieme a gabriele ciao ragazzi di roblox oggi siamo sulla mappa piggy che non è piggy è tipo piggy però con gli animatronics segno a punto ed io voglio ok vai ok ragazzi sento fortissimo ok ma tu dove sei e mi aspetti c'è un piccolo problema mi si è bloccato il gioco perfetto ti vedo camminare ok ti vedo camminare e mi è ribaggato perfetto qua io sono davanti a te ma non mi fa saltare è baggato no perché non ti vuoi saltare ah ok ma che è successo ma ci ha buttati fuori ma perchè ci ha buttati fuori oh vale vota player che hai fatto io non lo so me l'ha fatto votare perché ero in prima persona e quindi non posso girare il mouse io ce l'ho detto io ce l'ho dritto fu player il box io non lo so speriamo di adesso che vediamo se adesso funziona ok ok si funziona e vieni ma non ci vede niente ok qui c'è una sola nera no ma qui c'è una sola nera però sto da pure come una mano ho dove c'è un gioco chi è questo ma da te hai fatto questo uovo dove? vieni ma tu c'è un uovo vieni ma tu c'è un uovo che hai preso vieni ma ti dico dove si fa che è un uovo no, aspetta, va a diventare eh, arancione, arancione arancione no, sta ricordando, vale è giusto è giusto che si usava eh, aspetta giusi, ok no ma dove sei? ma c'è questi hanno fatto tutto ma come? ma anche il tempo ti giuro, praticamente che vale manca solo la chiave e il come si chiama il covid, come si chiama il covid, apri la ma apri ok, ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo che c'è un po' l'arancione, arancione che c'è un po' l'arancione cos'è? hanno ucciso qualcuno hanno aperto a Foxy e erano ucciso Foxy e quasi qui davanti ah quella volta, non si andrà adesso che ti uccide ah, che? no, te l'arancione non me lo so ma sai che forse già l'anno? mi non me forse già l'anno bello ma vale, già mi forse tutto ma come? tutto tutto perché era sì, è bello ma il codice è la cazzo ma sono dei progamer ciò che hanno fatto giunzo mi chiede la taveola che è quella di che ci chiede per trovare la taveola come si chiama il buono dove sei? ma ecco, è giusto vieni, qui dove c'è vieni che vieni, no ah, tu puoi giudare la taveola vieni vieni quale volte ci muoio o che ci muoio fermo vieni le volte ci muoio no grazie 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 che è quello normale. Ho Foxy però con il naso da Piggy e poi c'ho Freddy però con il naso normale, con il minuto nato. Sono io, sono io! No! Metto Foxy, ho metto Foxy o Freddy, ho Freddy quello là con il naso normale. Quello multinaso, non scherzo. Non esiste. Disfondo. Valle tu non hai visto cosa viste E' visto una caccola o questa nebbaticamente? Una volta era morta. Era morta, e cade a una terra tipo di 2 milioni di tèche 2 milioni di tèche, c'è un po' di 16 miliardi di tèche che cistina su questo momento bello. Allo, cosa che c'è? Io mi torno bello? Sì. Io vedo nero. Come nero? Vedo nero. Questa mappa oggi mi sa che sta funzionando un po' di... L'ho ucciso. Ma sono morto. Ma perché tu sei davanti a me? Ma... Mi sa che sta funzionando un po' di... un po' di cacca questa mappa oggi. E' un'unica mappa. Perché ci fa votare questa mappa? Ok, vai, sto rientrando su Roblox e sto andando, mi sto unendo. Perché mi c'è andato in prima persona. Ok, ci sono un po' quasi. Ok, mi sta caricando. Ok, mi interessa perché mi fa vedere ogni secondo, mi interessa, basta. No, no. Something... No, ma è la chip in... no, io... Ma io so stanno... No, io so stanno... Chi già? Ma chi schien è? Mi amo. Ma tu dove sei? Sono già uscito. Anch'io? Ah, qua sei. no al poxie quello che dovevo essere io dovevo esco avevo questo occhio è nata nato via 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 addio io scappo ciao dove? mi sembra con me che la con me non mi scelta non mi scelta no vale non mi ha scelta è bagadissima stavato dovevo passare nel buco e non mi ha scelta questa mappa mi sa che è molto baggata madonna che infarto vale ti ha ucciso? si vale non uscire se tu rientri devi far rinascere qui aspetta non uscire così io rientro e poi funzionisci a me così rientri nello stesso server questo server vai vai puoi uscire puoi uscire rientrare eh si già io sono uscito fa ma non mi fai giungher ah che ho ok aspettiamo ok vale se ne lo ho ok io sono entrato ok di pizza vai vota vota player che io sempre non posso perché mi sono messo delle cose infine ah quindi tutto 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 ma te per mutta cioè velature da v da mi erトミー er sto facendo una cosa abbagata appoggettivi prima mi vedevo in iperbagato non so perchè ma ma tu sei in due ciao vieni qua ma tu sei quella l'aggalla si e quando te la sei comprata me l'ho data in gratis tu che ne sai però anche io io l'altro giorno praticamente ho cliccato per sbaglio pochi e pregi con il normale e me li ha comprati che costavano tipo pochi costava tipo 500 500 per ultimo per ultimo allora prima uccidiamo sto qua no non scappare io so un piccolo abbraccio ma che ora cerco di tornare la chiave antoni la stessa che ho fatto sto coso sono pagato sono pagato ma perchè c'è un secondo piggy in via ok secondo piggy è uscito dove sono gli altri a me sta accadendo ma è non c'è bloccato come questo ma quando comunque mi sento molto pagata ma di solito non è così ok mi hai sbagliato non mi uccide solo io ma dove sono gli altri ma non credo che sei io non credo che sei io non credo che sei io non credo che sei ma può essere che sei l'unico no no ah no ma c'è un po' di un po' di gente quindi non penso che sia un po' di gente ma io non sto capendo perchè io non sto capendo perchè non c'è non c'è la testura arancione se non c'è la testura arancione mi pare no no domani sono gli altri app apparticolo e non sono morti tutti aspetta ecco quando lo credo ci perché è strano che già sono morti tutti oppure non sono direttamente entrato può essere mi sei che sei l'unico mi sei che non chiedi a me mi provo a deciderti prima vado nel bagno delle ragazze ma perchè ma perchè dove sei sono nel bagno dei ragazzi bagato io sono nel bagno dei figli ok poi c'è un martello e il martello è quello che mi serve ma c'è un tizio ma secondo me sei l'unico e' anch'io e' e' no no per caso avevo dire che ucciderò dopo un'epidemia no dai l'uomo l'uomo guarda che c'è ancora uno e' dove e' 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 il m per l'uomo 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 no ma niente un po di un po di canzone ma non è un problema spettator perchè se no praticamente quando mi è finita una persona mi fa vedere braccia e tipo il colpo però senza il collo e' la fatta ma dov'è l'altro qualel'altro potrebbe essere praticamente comunque c'è mi senti che ci sono le porte all'inizio dove si nasce eh si? quando esci dietro c'è del buio potrebbe essersi canterato la vediamo se l'altro c'è è tutto quanto buio qua vediamo insieme a niente allora qua eh ok devo rientrare perchè mi ha fatto questa cosa qua qua non c'è nessuno questa cosa che mi faceva vedere il corpo aspetta che rientro comunque trovo quella cosa ecco io non so perché alla fine era nel buio o no? ah vale cosa? alla fine era nel buio eh 11 si se non avete sono morto che tipo è bella io sto uccidendo tipo un miliardo di persone se non avete sono morto o che ora sto rientrando nel server mi sto rientrando nella partita no disconness perchè mi ha disconnesso però però non nel computer dal gioco che c'era dal computer un curla un modo che mi sentite pure la casa ahahah ahahah però comunque ma vale ahahah ma non è giusto ma ancora siamo registrando giusto? quanto siamo? siamo a 16 minuti ok va bene va bene va bene ehhh ma leggelo invece di scavolare ahahah 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 a lei però ma sei simpatico come no? vabbè tanto alle 7 è uguale che dovrebbero dire ah ok troppo cosa saranno le 7 anche che in realtà gli animatroni si dovrebbero spegnere alle 6 ah ah sabotaggio non c'è 7 game over ok ok io ti odio ok quindi se sono io godo un sacco quindi l'avete posso comprare qualcuno? posso comprare bonnie? ah vabbè quindi spero che questo video vi sia piaciuto come sui do ma come vale no 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 vale già il video sta durando troppo quindi e questo video però non c'è voluta partita perchè ha raggato troppo non possiamo non fare no ho già il video 18 minuti sta durando quindi spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video e se il video vi è piaciuto condividetelo con tutti i vostri amici e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo e bellissimo video ciao ciao ragazzi